Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Crotone alle vittime del naufragio di steccato di Cutro. Non convincono gli inquirenti le testimonianze di Tiziana Mirabelli per l'omicidio di Rocco Gioffre. Per la prima volta nel sud impiantato a Palermo il braccio all'operaia di 62 anni calabrese che a gennaio scorso perse l'arto durante la lavorazione delle olive. Gli ermellini calabresi saranno la mascotte per le Olimpiadi e Parolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Crotone al Palamilone nella Camera Ardente per rendere omaggio alle vittime del naufragio di steccato di Cutro. Applaudito a lungo dalla folla prima ha visitato i feriti in ospedale e ha portato giocattoli e bambini ricoverati presso il San Giovanni di Dio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamane si è recato a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano circa 200 migranti avvenuto domenica nelle acque di steccato di Cutro. Mattarella si è trattenuto il raccoglimento davanti alle bare raccolte nella Camera Ardente. Ha poi lasciato il Palamilione di Crotone salutato dai tanti applausi dei cittadini. Presidente vogliamo giustizia e verità questo è il grido di alcuni. Il naufragio del natante partito dalla Turchia ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone tra cui anche donne e bambini. Prima di recarsi alla Camera Ardente il Presidente Mattarella aveva visitato in ospedale i 15 migranti superstiti. Il suo arrivo è stato preceduto da alcuni pacchi contenenti giocattoli fatti consegnare dal Presidente ai piccoli degenti superstiti che si trovano nel reparto di pediatria. Soprattutto peluche, pianole e piccoli robot telecomandati. Il capo dello Stato si è anche intrattenuto nel palazzetto con i familiari. Davanti all'atrio del nosocomio tra operatori e degenti in tanti hanno applaudito il Presidente della Repubblica che è apparso particolarmente commosso. Presidente non ci abbandoni gli ha chiesto la folla all'uscita dall'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. E intanto scolaresche e semplici cittadini stanno entrando nella struttura per rendere l'omaggio della città e testimoniare la vicinanza alle vittime. Tante storie come quelle raccontate dalle urla stazianti di una giovane donna afghana sulla bara della sorella con la quale era partita dall'Afghanistan per trovare una vita migliore che risuono nel palazzetto dello sport. O come quella di Shai Daraza che si era imbarcata nella speranza di un futuro migliore. Sogni che si sono infranti di fronte alle coste calabresi dell'Oionio. Shai Daraza, giovane sportiva di 27 anni, è stata identificata tra le vittime del tragico incidente del barcone. A confermare il decesso anche i funzionari del Pakistan OK Federation che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia. Non appare convincente agli inquirenti le testimonianze date da Tiziana Mirabelli accusata dell'omicidio di Rocco Gioffre, il pensionato di 75 anni ucciso con 37 coltellate a Cosenza lo scorso 14 febbraio. Gli inquirenti escludono la legittima difesa. Il racconto di Tiziana Mirabelli non convince. Il GIP Alfredo Cosenza lo scrive senza attentennamenti nell'ordinanza con cui ha disposto la detenzione in carcere della donna. La 47enne è reo confessa dell'omicidio del pensionato Rocco Gioffre. La vittima di 75 anni è stata massacrata con 37 coltellate il giorno di San Valentino in una palazzina di via Montegrappa. La donna si è costituita ai carabinieri del Maggiore Antonio IV dopo sei giorni. Ma il caso presente è una serie di anomalie e punti oscuri. Non è stata trovata l'arma del delitto, la cassaforte della vittima è stata ripulita, il cellulare, le chiavi e il portafoglio di Gioffre sono spariti. La versione dei fatti resa dalla indagata non ha convinto neppure il procuratore capo Mario Spagnuolo e il PM Maria Luigi D'Andrea. Il GIP di Cosenza sottolinea può sindora permettersi come la ricostruzione operata alla donna in sede di interrogatorio dinanzi al PM. Confermata anche dinanzi questo giudice in sede di interrogatorio di garanzia intesa a dare del delitto una spiegazione in termini di esercizio di legittima difesa appare sulla base degli atti priva di riscontri oltre che non aliena da tratti di inverosimiglianza. La ricostruzione dei fatti così come esposta dall'indagata nel corso dell'udienza di convalida aggiunge il magistrato non appare convincente evidenziando anzi aspetti in verosimiglianza. Appaiono in primo luogo non compatibili con la riferita necessità di difendersi le modalità della condotta posta in essere dalla Milabelli Tiziana così come descritta dalla stessa. In primo luogo infatti il numero delle coltellate inferte superiori a una come ha dichiarato la stessa indagata non appare compatibile con la volontà di difendersi così come le modalità con cui la stessa azione difensiva si è svolta secondo il racconto reso della stessa. Ma cosa ha riferito la 47enne? Ecco uno straccio della confezione. Voglio solo precisare che dopo la prima coltellata inferta a Rocco lui è caduto a terra ed il coltello è uscito dallo stomaco ed io l'ho raccolto per poi ancora difendermi successivamente e io ho inferto altre coltellate sul corpo. La Milabelli ha pure precisato di aver continuato a colpirlo anche dopo che l'uomo era caduto in terra. Sottolinea il jeep appare così evidente allora come non possa ritenersi compatibile con l'intenta di sfuggire al suo aggressore. Una condotta lesiva pervicacemente condotta anche dopo che l'uomo era caduto in terra anche ipotizzando una sorta di raptus difensivo. La condotta descritta appare piuttosto espressione singolare. Un'aggressività è ferocia tanto che l'azione violenta continuava anche dopo che l'uomo era in terra e quindi impossibilitato a offendere. Si è svolta davanti al gruppo del Tribunale di Crotone l'udienza per il pestaggio di Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese ridotto in fin di vita l'estate scorsa a Crotone. I legali di Ferrerio hanno chiesto l'imputazione coatta per il 31enne che quella sera mandò il messaggio alla ragazzina per indicare volutamente Davide. Il 31enne ha mandato quel messaggio alla ragazzina per indicare volutamente Davide. La ringa dell'avvocato Fabrizio Gallo rappresentante della famiglia del 21enne di Bologna che al termine della sua discussione ha chiesto l'imputazione coatta per l'indagato e poi il messaggio tramite social è stato mandato senza aver visto Federico la risposta del legale Enzo Cavarretta che difende il 31enne di Petiglia Policastro per il quale ha sollecitato l'archiviazione del procedimento. Ieri mattina davanti al GIP del Tribunale di Crotone Romina Rizzo che si è riservata la decisione si è svolta l'udienza per l'opposizione all'archiviazione proposta dalla procura per l'uomo finito sotto accusa per aver involontariamente per gli inquirenti sviato da sé l'attenzione della spedizione punitiva che l'11 agosto del 2022 ridusse in fin di vita Davide Ferrerio mentre si trovava in vacanza a Crotone con la sua famiglia. L'indagato come si ricorderà mandò un messaggio alla giovane all'epoca minorenne con il quale da tempo aveva un flirt dicendole falsamente che quella sera in cui si sarebbero dovuti incontrare per conoscersi indossava una camicia bianca. In questo modo il bersaglio del gruppo che aveva l'intenzione di punire lo spasimante La Raganzina diventò l'inconsapevole Davide che in quel momento era a breve distanza dal palazzo di giustizia e indossava un indumento bianco come descritto nel messaggio. Dopodiché il ventunenne venne riconosciuto e atterrato con calci e pugni da Nicolò Passalacqua. Secondo gli avvocati che assistono i genitori di Davide ieri in aula erano presenti oltre a Gallo anche Vincenzo Cardone. Il ventunenne avrebbe inviato su Instagram quella scritta con il chiaro intento di indicare Ferrerio in quanto poco prima l'avrebbe visto passare vicino a sé. Grossa perdita di acqua tra l'altro potabile da circa un mese persiste all'uscita di una galleria nel territorio di Melito Portosalvo nel Regino comportando anche grossi rischi per i motociclisti. Direttore una perdita d'acqua più di un mese ecco lì c'è un pericolo per chi esce qui a Melito Portosalvo. Più staginazione da parte dell'ANAS abbiamo saputo al Comune ma il Comune non interviene. Guarda io intanto ti ringrazio per il supporto di informazione che dai a questo territorio. Da soli non ce la facciamo. Io ho già fatto più di qualche servizio. Questo è un danno che in passato è già stato riparato una volta. È più di un mese che c'è questa grossa perdita di acqua potabile tra l'altro che mette a rischio l'incolumità delle persone perché qui è a ridosso come vedi dalle immagini di una galleria all'uscita. Tu immagina un motociclista per esempio che non è del posto e non conosce questa insidia rischia di farsi male veramente anche perché poi l'acqua copre delle grosse voraggini, buche che ci sono sotto l'acqua. È una vergogna. Come vedi io ho chiamato, ho anche interpellato l'ANAS. Una mattina c'era qui un furgone dell'ANAS che dovrebbe mettere a mio avviso in sicurezza questa uscita o chiudere lo svincolo prima che succeda un fatto grave che qualche cittadino ci rimetta la pelle. Questo fatto grave però è una perdita d'acqua che dovrebbe risolvere il problema del comune. Sì, così dice l'ANAS. Io ho una registrazione. L'ANAS dice che noi abbiamo fatto più volte la pecca al comune, gli abbiamo anche fatto qualche verbale, però il comune non ci risponde e non interviene. Il comune molto probabilmente, la giustificazione potrebbe essere quella, non abbiamo soldi. Però qui ci sono lavori di sommorgenza che si fanno con delibera esecutiva e immediata. Per la prima volta nel Meridione, in Sicilia, nel centro di riferimento per i traumi amputativi dell'unità operativa complessa di chirurgia plastica del Policlinico, è stato effettuato il reimpianto di un braccio ad una donna calabrese di 62 anni. Questo intervento rappresenta un successo senza precedenti nell'Italia meridionale, dice il chirurgo Pierfrancesco Pugliese, che insieme al collega Tripoli ha eseguito il reimpianto. Molti dei traumi che trattiamo provengono dall'Italia peninsulare e stiamo invertendo lo storico flusso di pazienti del sud verso i centri del nord Italia. Il 31 gennaio scorso la paziente, controllando la macchina per la spremitura delle olive nel frantoio a Limbadi nel Vibonese, a causa di un attimo di disattenzione, ha subito l'amputazione del braccio destro. La paziente, nonostante il grave trauma, è riuscita a chiamare i soccorsi ed è stata trasportata prima al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, quindi con l'elisoccorso al Policlinico Paolo Giacone di Palermo, nella unità operativa di chirurgia plastica diretta dalla professoressa Adriana Cordova. L'intervento è durato circa 10 ore, durante le quali i medici si sono avvicendati senza sosta nei differenti tempi ricostruttivi. Poi la paziente è stata portata in terapia intensiva. A distanza di un mese dall'intervento la paziente è in ottime condizioni di salute e il reimpianto è attecchito con successo. Fondamentale è stata la tempestività di comunicazione tra il GOM di Reggio Calabria e la pronta risposta dell'unità operativa di chirurgia plastica di Palermo. Ci impegniamo quotidianamente, dice la dottoressa Cordova, perché al sud si abbiano le stesse possibilità terapeutiche sia nell'ambito della traumatologia sia nell'ambito della chirurgia oncologica dei cittadini delle regioni del nord, che hanno ereditato una sanità storicamente più efficiente. E ora cambiamo argomento. La Corte dei Conti si pronuncia scongiurata l'ipotesi del dissesto finanziario del Comune di Vibo Valencia. Ribaltate le decisioni assunte dalla magistratura contabile regionale e dal Ministero dell'Interno. La Corte dei Conti, sezioni riunite nella lunga e complessa udienza che si è tenuta a Roma, ha ribaltato le decisioni fino ad oggi assunte dalla magistratura contabile regionale e dal Ministero dell'Interno sul caso Vibo Valencia. Un caso unico nel suo genere in quanto la Corte dei Conti si è pronunciata ritenendo non valutabile il piano di riequilibrio in quanto non vi erano i presupposti per ricorrere alla procedura avviata dall'allora commissario straordinario alla guida di Palazzo Luigi Razza. Secondo la magistratura contabile non si poteva ricorrere alla procedura di riequilibrio e dunque il piano non poteva essere adottato e quindi valutato. Così come non potevano essere adottate le istruttori successive del Ministero dell'Interno e della sezione regionale Calabria della Corte dei Conti. La decisione della sezione riunita è indipendente dal termine del 31 dicembre 2022, considerato nell'udienza del 18 gennaio 2023, perentorio per la rimodulazione e comunque con il mille proroghe sprosticipato al 31 marzo 2023. Non più una questione di termini ma la decisione è l'altra. Il Comune di Vibo non può andare in dissesto, non perché sia stato bocciato il piano ma perché il piano non poteva essere e non può essere valutato. La procedura di riequilibrio come richiamato nella delibera 24 del 28 dicembre 2022 della Corte dei Conti è stata avviata prima dell'insediamento dell'amministrazione Limardo per l'esattezza con la delibera 18 del commissario straordinario. Il piano non si valuta e non si riformula e pertanto non ci sono i presupposti per dichiararlo bocciato e avviare il dissesto. Si dovrà ora lavorare per inquadrare insieme al Governo e al Ministero dell'Interno il nuovo scenario. Prendiamo atto, afferma il sindaco, di una situazione nuova e oggettivamente inaspettata come delineata dalle sezioni unite che se da un lato scongiura il possibile dissesto dell'ente dall'altro prospetta l'attuazione di nuovi strumenti che comunque non inficiano i risultati contabili. Restiamo a Vibo Valencia. Il vice capo della polizia Vittorio Rizzi, ospite dell'Istituto Italiano di Criminologia, ha presentato il suo ultimo libro. L'occasione è stata la presentazione del suo libro intitolato Investigare 4.0, criminologia e criminalistica, viaggio nel mondo delle indagini. Il vice capo della polizia Vittorio Rizzi è stato dunque a Vibo Valencia, ospite dell'Istituto di Criminologia. A moderare l'incontro il professor Fausto Maluchi, presente il procuratore della Repubblica di Vibo Valencia Camillo Falvo, il rettore dell'Istituto Saverio Fortunato, oltre al prefetto, al questore, ai comandanti provinciali di tutte le forze dell'ordine del territorio, nonché gli studenti dell'Istituto di Criminologia di Vibo Valencia e di alcune scuole superiori di Catanzaro e Rosarno, è intervenuta, ma solo in collegamento da Roma, il sottosegretario agli interni, Vanda Ferro. Di particolare interesse il libro scritto dal vice capo della polizia Rizzi relativamente al progresso delle attività di indagini alla luce delle più moderne tecnologie. Il fattore umano deve per forza confrontarsi con l'evoluzione e il progresso scientifico. Progresso scientifico che vuol dire non solo nuove tecnologie, ma vuol dire un mondo sempre più globale e globalizzato. Sono nuove sfide e dobbiamo ridurre al minimo il tempo in cui qualcosa cambia nel mondo e qualcosa deve immediatamente cambiare e nella capacità di investigazione delle forze di polizia, ma spesso anche negli ordinamenti giuridici. Il ruolo della polizia è fondamentale nella società, ma in un territorio come la Calabria diventa delicato. Il ruolo della polizia è un ruolo di democrazia. Nella Calabria non solo è democrazia, ma è affermazione dello Stato, è affermazione di un principio di legalità. In una terra dove è nata una terribile mafia agropastorale che oggi è diventata uno dei cartelli più potenti al mondo. Questa evoluzione della criminalità in un territorio come questo significa anche stare al passo con i tempi rispetto a quanto è cambiata. Bisogna stare al passo con i tempi e quello che deve far riflettere è che nelle parole di un collaboratore di giustizia proprio dell'Andrangheta questo collaboratore dice quando ero dall'altra parte, si riferisce al momento in cui era all'interno dell'organizzazione, noi dovevamo stare almeno un passo avanti a tutti. Parlando come un manager, un CEO di una grande azienda e le forze di polizia a questa azienda criminale devono rispondere con grandi competenze e con una straordinaria cooperazione internazionale. Il dialogo con i cittadini rimane fondamentale. Noi siamo polizia tra la gente e facciamo il nostro lavoro tra la gente e per la gente e abbiamo bisogno del consenso della gente. Il nostro lavoro per la gente si basa sulla democrazia e sul rispetto del principio di legalità. I Rotary Club della Calabria si sono riuniti a Vivo Valencia per programmare le prossime attività secondo le linee guida del futuro governatore Franco Petrolo. In una società colpita dalle recenti vicissitudini che l'hanno resa più debole e vulnerabile, il compito dei cosiddetti club service assume un ruolo ancora più delicato quanto necessario nella continua evoluzione delle dinamiche sociali. Partendo da questo presupposto, i Rotary calabresi, non volendo più essere società chiusa, si sono riuniti a Vivo Valencia per programmare le attività future attraverso un confronto riguardo alle linee guida dettate da chi dovrà guidarli nel prossimo anno sociale, il futuro governatore Franco Petrolo. Io oggi ho proposto un nuovo modo di vedere i Rotary, cioè nel senso che i Rotary non può rimanere sempre una società chiusa, deve necessariamente aprirsi all'esterno, cioè la società chiusa trasformarsi in società aperta dove è possibile la frequentazione di persone illustri, capaci, validi che lavorano all'esterno e caso mai possono essere coinvolti in dei progetti come esperti. Con l'anno di governatore Petrolo, Vivo Valencia torna al centro del mondo Rotary. La Calambria è il più piccolo e periferico distretto d'Italia, ma non per questo non deve rendersi protagonista nella globalità del Rotary. Si vuole scrivere una pagina nuova di un Rotary che si adegui al tempo, di un Rotary che lascia al passato la dimensione della società chiusa per divenire una società aperta. Siamo giunti all'ultima notizia. Gli ermellini calabresi ispireranno la mascotte delle Olimpiadi e Parolimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026. Il bozzetto realizzato dagli alunni dell'Istituto Comprensivo di Taverna ha prevalso con il 53% dei consensi ottenuti sulla coppia dei fiori del Bucaneve e della Stella Alpina realizzata dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Sabin di Segrate in provincia di Milano. La Corte dei Conti, sezioni riunite nella lunga e complessa udienza che si è tenuta a Roma, ha ribaltato le decisioni fino ad oggi assunte dalla magistratura contabile regionale e dal Ministero dell'Interno sul caso Vibo Valencia. Un caso unico nel suo genere in quanto la Corte dei Conti si è pronunciata ritenendo non valutabile il piano di riequilibrio in quanto non vi erano i presupposti per ricorrere alla procedura avviata dall'allora commissario straordinario alla guida di Palazzo Luigi Razza. Secondo la magistratura contabile non si poteva ricorrere alla procedura di riequilibrio e dunque il piano non poteva essere adottato e quindi valutato. Così come non potevano essere adottate le istrutture successive del Ministero dell'Interno e della sezione regionale Calabria della Corte dei Conti. La decisione della sezione riunita è indipendente dal termine del 31 dicembre 2022 considerato nell'udienza del 18 gennaio 2023 perentorio per la rimodulazione e comunque con il mille proroghe sprosticipato al 31 marzo 2023. Non più una questione di termini ma la decisione è l'altra. Il Comune di Vibo non può andare in dissesto non perché sia stato bocciato il piano ma perché il piano non poteva essere e non può essere valutato. La procedura di riequilibrio come richiamato nella delibera 24 del 28 dicembre 2022 della Corte dei Conti è stata avviata prima dell'insediamento dell'amministrazione Limardo per l'esattezza con la delibera 18 del commissario straordinario. Il piano non si valuta e non si riformula e pertanto non ci sono i presupposti per dichiararlo bocciato e avviare il dissesto. Si dovrà ora lavorare per inquadrare insieme al Governo e al Ministero dell'Interno il nuovo scenario. Prendiamo atto, afferma il Sindaco, di una situazione nuova e oggettivamente inaspettata come delineata dalle sezioni unite che se da un lato scongiura il possibile dissesto dell'ente dall'altro prospetta l'attuazione di nuovi strumenti che comunque non inficiano i risultati contabili. Termino qui la nostra informazione e grazie per essere stati con noi. Vi lascio ora con le notizie dall'Italia e dal mondo. La Procura di Crotone ha aperto un secondo fascicolo al momento contro i gnoti per chiarire cosa non ha funzionato nella catena dei soccorsi del naufragio dei migranti avvenuto domenica mattina nelle acque antistanti steccato di Cutro. Si tratta di un secondo fascicolo non legato al primo già aperto. I PM hanno chiesto a Guardia Costiere e Guardia di Finanza gli atti relativi alla loro attività nelle ore antecedenti la tragedia. E oggi a Crotone è stato il giorno della visita del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ha reso omaggio alle vittime del naufragio. Il Capo dello Stato ha voluto portare la vicinanza e il sostegno anche ai sopravvissuti del naufragio che ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone, tra cui anche donne e bambini. A Crotone oggi, per rendere omaggio alle vittime, si è recata anche la neo-segretaria del PD Elish Klein. Intanto, mercoledì prossimo 8 marzo, il Ministro dell'Interno, Piantedosi, riferirà in aula al Senato sul naufragio, come ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Il giorno successivo alla chiusura dell'inchiesta per epidemia colposa da parte della Procura di Bergamo durante la prima ondata di Covid, la lista degli indagati si allunga. Il procuratore di Bergamo, Antonio Chiappani, fa chiarezza. Se la zona rossa fosse stata estesa sin da subito, si sarebbero evitate oltre 4.000 morti. Secondo il PM, dunque, gli indagati causarono la diffusione incontrollata del virus. Per la Procura, l'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non istituì per tempo la zona rossa, mentre il governatore della Lombardia, Tilio Fontana, non avvisò Conte di criticità ad Alzano e Nembro. Infine, l'accusa al direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, è quella di non aver attuato il piano pandemico, impedendo così l'azione tempestiva di misure anti-Covid. Nel 372esimo giorno di guerra, il Cremlino torna ad attaccare Stati Uniti e Nato, colpevoli di fomentare ulteriormente il conflitto in Ucraina, rischiando di accendere uno scontro militare diretto tra potenze nucleari. Intanto, mentre Kiev fa sapere che almeno tre civili sono morti dopo l'attacco russo su Zaporizhia, nel Mar Nero sono diventate cinque le navi portaeree di Mosca con a bordo 32 missili. Dal G20 in corso in India a Delhi, Cina e Russia rifiutano di firmare la dichiarazione sullo stop alla guerra in Ucraina e il ministro degli esteri russo Lavrov attacca l'Occidente dicendo che seppellisce spudolatamente l'accordo sul grano. Poi il colloquio a sorpresa con il segretario di Stato americano Anthony Blinken, durante il quale Blinken, ribadendo il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, ha chiesto a Lavrov di mettere fine a questa aggressione ingiusta e lavorare ad una pace durevole. Una bandiera russa dipinta sulla base della sirenetta di Copenhagen, uno dei monumenti più iconici del paese, è stato vandalizzato questa notte, imbrattato con i tre colori della bandiera russa, rosso, blu e bianco. La polizia indaga sull'accaduto, il gesto sembra un messaggio di sostegno nei confronti di Mosca attorno al conflitto in Ucraina. Proprio in questi giorni su molti edifici danesi sventola la bandiera ucraina in segno di solidarietà con Kiev nel primo anniversario dell'invasione russa. Tale il tasso di disoccupazione scende l'inflazione, soprattutto quella dell'energia, ma non quella legata al carrello della spesa. Sono le stime dell'Istat secondo cui nel mese di gennaio rispetto a dicembre 2022 in Italia aumentano gli occupati mentre diminuiscono gli inattivi. Sempre secondo le stime dell'Istat nel mese di febbraio l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività registra un aumento dello 0,2% e si attesta al 9,2% su base annua. Una buona notizia in parte perché spiega l'Istituto di Statistica il rallentamento del tasso di inflazione dovuto all'accentuarsi del calo dei prezzi dei beni energetici i cui effetti sono solo in parte compensati dalla perdurante accelerazione dei prezzi degli alimentari, dei tabacchi, dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e dei servizi relativi ai trasporti. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ritiene possibili ulteriori rialzi dei tassi di interesse oltre a quello di mezzo punto previsto tra due settimane. Lo ha detto la stessa numero uno della Banca Centrale Europea parlando ad una TV spagnola. A questo punto è possibile che continuiamo quel percorso, ha sottolineato la Lagarde, che ha aggiunto impossibile però dire ora a quanto ammonterà il rialzo in ogni singola riunione.